Oltre 50.000 persone a Lucca per l'atteso concerto di Rolling Stones in una città blindata con ingenti misure di sicurezza e provvedimenti straordinari per la viabilità, l'arrivo degli spettatori è filato via senza particolari problemi. Qualche disagio ma davvero limitato nel pomeriggio all'uscita dell'autostrada di Lucca Est. Per il resto l'invasione dei fan della band britannica è stato pacifico e straordinario, spettatori arrivati da tutto il mondo e in cui sono spiccati tanti personaggi dello spettacolo, dello sport e della politica. Mick Jagger e compagni sono arrivati intorno alle 16 in cortile degli svizzeri nel backstage appositamente realizzato dall'organizzazione. Poi la lunga attesa mentre l'area dell'ex balilla si riempiva lentamente fino agli oltre 55.000 spettatori paganti. Qualche lamentela sui social network è arrivata dagli spettatori del Prato B, da cui il palco risultava quasi completamente impallato da due grandi strutture riservate ai tecnici del suono e delle luci. Alle 21.15 l'entrata in scena degli Stones per uno show che rimarrà nella storia.